E' un bellissimo maxi operazione con il Monza, il club Brianzola come già anticipato acquista Alessandro Sorrentino a titolo definitivo con la stessa formula percorso inverso per il portiere Daniele Sommariva e il centrocampista Luca Lombardi in prestito secco il greco Siatunis classe 2002. Scuola Genoa prima di essere ingaggiato dal Monza Sommariva ha collezionato 53 presenze in D con Nocerina e Milano City con i Brianzoli complessivamente 5 gettoni di cui 4 in B negli ultimi 3 campionati. Luca Lombardi classe 2002 centrocampista si è messo in evidenza nella Re Canatese in D quindi il trasferimento al Monza due presenze nel Teramo 29 nell'ultima stagione con la Vis Pesaro dove in tante occasioni l'ex tecnico Banchini lo ha utilizzato da esterno a sinistra nel 3-4-2-1 Lombardi a proda in Biancazzurro a titolo definitivo. Come anticipato dal Monza anche Antonis Siatunis classe 2002 due presenze in B con i Brianzoli ex giovanili Sampdoria una sorta di schermo davanti alla difesa il calciatore greco arriva in prestito secco. Piace non poco Simone Della Latta 29enne mezzala del Padova contatti avviati con la gente l'ex Biancazzurro Luca Puccinelli attesi sviluppi centrocampista di forza sostanza e gol ben 6 nell'ultimo campionato 10 due stagioni orsono sempre nelle fila del Padova. C'è la possibilità concreta di uno scambio con De Marchi già da settimane nel mirino del club Veneto Delicarri e Mirabelli ne stanno parlando da tempo. Probabilmente niente rinnovo per Alessandro Iacobucci che potrebbe tornare a distanza di 11 anni al Sio de Tirol neopromosso in B. Drudi si è accordato con l'Ancona in entrata altresì fatta per il 21enne terzino sinistro Lorenzo Milani scuola Empoli di proprietà del Pontedera. Il laterale Mancino approderà in Biancazzurro a titolo definitivo. L'operazione sarà ufficializzata il prossimo 4 luglio. Indirittura d'arrivo l'ingaggio del cursore di fascia destra Matteo Saccani classe 2001 lo scorso anno in grande evidenza con la Vis Pesaro ma di proprietà del Sassuolo. Il club emiliano ha già dato l'ok al trasferimento in prestito di uno dei migliori interpreti del ruolo la scorsa stagione nel girone B. Attesa per Cuppone la situazione relativa a Facundo Lescano con cui c'è già l'accordo sull'ingaggio. Il classe 96 argentino vuole lasciare Lentella e ha scelto Pescara. In cambio il club Ligure ha chiesto Clemenza e un conguaglio in denaro che non sarà corrisposto. Tutto dipenderà dalla volontà del fantasista ex Juve assistito da Tuglio Tinti. Secondo talune indiscrezioni Clemenza non avrebbe ancora trovato l'accordo economico con la società di Chiavari.